Siamo a Erba con Doriano Torchio, candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative indette per domenica 12 giugno per la lista Democrazia partecipata. Doriano Torchio è un volto molto conosciuto in città, ma per quei pochi che ancora non lo conoscono iniziamo a parlare dell'esperienza amministrativa maturata sino ad oggi. Sì, per quanto riguarda il comune di Erba io sono stato candidato ed eletto negli anni 90, nel 90 prima, nel 95 poi e ho rappresentato le minoranze di allora in Consiglio Comunale. Ecco, la dimostrazione che tu stai dicendo l'ho avuta soprattutto nel 95, quando candidato della lista che ha preso meno voti, 8%, sono riuscito a percepire una percentuale altissima perché sono stato candidato al Consiglio Comunale più votati in tutta Erba. Quindi ho avuto, diciamo, dalle persone che conosco, che mi hanno seguito nel tempo, da sportivo piuttosto che da insegnante, che da cronista di sportivo piuttosto che animalista, che propositore di anche cinema all'aperto qua in questa sede, hanno condiviso le scelte che ho fatto nell'arco del tempo. Quindi è stata una naturale scelta di proseguire, ma per un po' ci ho ripensato, se ho dovuto essere onesto, perché anch'io come molti italiani ho maturato una certa disaffezione alla vita politica, soprattutto nazionale, che ci ha disorientati tutti. Nel 2007 mi sono ripresentato dopo 18 anni di assenza dall'istituzione comunale. in questo caso è successo veramente che molte persone che avvicinavano mi dicevano Doriano, leggendo i giornali, o signor Torchio, pare che nessuno si voglia candidare a sindaco perché non lo fa lei, perché non lo fa lei Torchio o perché non lo fai tu, Doriano. Ecco, io sono stato nella mia vita molto attento a sentire gli altri prima di proporre le mie opzioni, le mie scelte, le mie proposte. Stare a sentire la gente per me è una cosa naturale, cosa che mi sia riproposta adesso nel 2022 e mi sono detto perché no, visto che altri percorsi si sono resi non possibili, non praticabili da scelte che altri hanno fatto, allora sì, corriamo ancora come democrazia partecipata. Ecco, è cambiata leggermente la nostra proposta perché al nostro interno abbiamo anche rappresentanti dei Cinque Stelle e del Partito Socialista Italiano, ma non è un'inclusione forzata, è nata da esperienze comuni che abbiamo vissuto all'arco di questi cinque anni, quindi mi sembrava corretto correre non più da solo, da solo come lista civica, mantenendo fede a quanto abbiamo sempre fatto, siamo una lista civica, quindi siamo aperti ai consigli, alla partecipazione dei cittadini senza chiedere loro il DNA e proseguiamo su questa strada anche nei prossimi cinque anni, speriamo con altrettanto successo di cinque anni fa, ma se allora era una provocazione portata avanti da poche persone, con pochi mezzi, soprattutto tradizionali, siamo riusciti ad ottenere un risultato che anche la stampa aveva scritto che era stata la vera sorpresa delle elezioni, adesso speriamo di non essere più sorpresa, ma conferma a livelli di percentuali anche più alti. Stavo scendo da cinque anni di mandato nelle file della minoranza consigliare, qual è stata l'attività di Doriano Torchio in questi anni di opposizione? Per quanti mi hanno seguito e molti l'hanno fatto, o attraverso gli organi di stampa oppure attraverso i mezzi con cui si comunica oggi, ho presentato sempre, stando sempre a sentire, perché secondo me è importante, molti lo affermano e poi non lo fanno, il politico è assolutamente abituato a parlare e stare a sentire poco, ascoltare, quello di stare a ascoltare gli altri è una caratteristica che tutti mi assegnano, tant'ero che spesso nel mio peringrinare da pedone per la città incontro persone che mi chiedono, mi fanno richieste, mi fanno delle considerazioni oppure mi ricercano a casa, ecco la città che ho svolto, ho presentato interpellanze, interrogazioni, emozioni, istanze, sempre su richiesta di questa città, delle sue componenti che non trovano risposte nella pubblica amministrazione, ho cercato però di non fare solo polemica, la polemica non ti porta da alcuna parte, quindi spesso agito con delle segnalazioni agli uffici preposti, soprattutto quello tecnico per trovare delle soluzioni a problemi che possono sembrare banali ma che rendono la vita difficile di molte persone, quindi ho cercato anche, il colloquio in questa amministrazione era quasi impossibile, anche spesso quando mi hanno dato ragione poi non si sono materializzati in atti concreti sul territorio, però ho sempre dialogato con la città, non sempre probabilmente l'avrò fatto bene come si aspettavano ma abbiamo tutti dei limiti, però quello che non ho di sicuramente io è di non stare a sentire, sto a ascoltare la città e quindi chiunque mi può sentire, non ha bisogno di chiedere un appuntamento, se sarò sindaco magari lo farà anche, ma saranno queste persone più facile trovarmi in giro per la città e dialogare in modo pacifico e costruttivo. Cosa chiedono gli erbesi al prossimo sindaco? Quali sono le priorità per la città di Erba? E' urgente, ce ne sono tante, ma sicuramente quella che mi sento chiedere di risolvere come ogni giorno, non ci sono che passa, quello dei marciapiedi. La città, per essere la città di tutti, è necessario che tutti ci si possono muovere in un arredo che li fa sentire sicuri, perché vedo che non soltanto le persone anziane, ma ci sono molte persone che sono portatori di entica, che da soli si muovono o vengono accompagnate e hanno una difficoltà incredibile. Quindi la mancanza di marciapiedi sicuri fanno sentire questa città piena di barriere architettoniche. Dove non ci sono quelle dichiarate ufficialmente ci sono anche queste. Oltattutto la segnaletica, perché la segnaletica stradale, soprattutto gli attraversamenti pedonali, sono scarsi o vengono rinnovati con una cadenza troppo lunga per permettere ai cittadini di utilizzarli in sicurezza. Quindi i cittadini volessero sicuri ma sotto questo punto di vista, soprattutto, di potersi muovere in una città che sente sua. Difficilmente Erba continuerà ad essere una città che non si sa bene di chi è, perché è venuto a mancare, viene poi a mancare questo cemento che è l'incontrasi strada, perché la gente passa a volte a fretta di muoversi perché si sente più sicura tra le mura domestiche. Quindi dobbiamo anche inventare un arredo urbano che renda un'attrazione anche per quanti vengono da fuori. Però ripeto, soprattutto eliminare queste barriere architettoniche a partire dai marciapiedi che sono il vero grande ostacolo che non permette a tutti i cittadini sentissi tali, tali cittadini non di serie A piuttosto che di serie B. Poi ce ne sono altri ovviamente. Ecco, c'è spesso parlato di, io sto a sentire, come ho detto, e Democrazia partecipata è anche perché propone di attivare bilanci partecipati attraverso la consultazione di cittadini prima di un'approvazione di un bilancio preventivo. Quindi ci sono gli istituti di partecipazione, le assemblee di quartiere però bisogna ridare loro vita perché non ne hanno avute negli ultimi anni. Cosa ho fatto? Ecco, diciamo prima, attraverso la collaborazione per esempio di Raffaele Erba, che è il consiglio regionale di 5 Stelle, abbiamo ottenuto la chiuda del primo diciero di Carpesino che non era norma. Era stato inaugurato ufficialmente con le autorità, col taglio del nastro, ma risultava proprio non a norma e quindi grazie anche alla nostra azione, siamo riusciti a arrivare alla chiusura, che è quello che chiedono i cittadini di quel comparto di erba, sto parlando di Carpesino, ma anche di Ponte Arambo sulla sponda opposta. Ecco, cose da fare ovviamente, quali aree di smesse? Anche queste sono un problema che comunque prima o poi andrà risolto. Si è parlato l'altra sera di consumo suolo zero in Consiglio Comunale, la mozione che ho presentato a nome di diverse associazioni ambientaliste è stata bocciata, anche per ragioni che si può comprendere da parte della maggioranza, ma oggettivamente abbiamo bisogno di non consumare più suolo e adesso spesso la maggioranza si è fatta paladina di queste parole d'ore, dopo aver concesso col PGT la possibilità di costruire tutto il verde più grande di erba, quindi togliendo anche dei polmoni verdi. Ecco, gli alberi, gli alberi anche questi, vorrei sapere in questa missione come la precedente, come si è chiuso il bilancio arborio, tra alberi piantati, alberi tolti e soprattutto si hanno temperato la norma che vuole piantumare un albero per ogni bambino nato o diventato erbese, quindi vengono meno che questi tipi di operazioni che invece la legge dovrebbe rendere obbligatoria. Poi c'è una città per tutti e essere una città più pulita. Adesso non sto dando colpe agli operatori ecologici che spesso incontri con i quali parlo, che il loro dovere lo fanno magari alle 6 di mattina, ma poi nell'acqua della giornata c'è chi esce di casa e utilizza il cestino pubblico per la propria riserva personale, per non parlare di mozziconi di sigarette che non vengono tutti i costatori ma sono delle forme di inquinanti più grosse, finiscono poi nel circolo dell'acqua. Per non parlare poi delle direzioni canine, io amo i cani, chi mi conosce lo sa, cami, gatti, qualunque animale sia viva in questa città. Ecco, avevo fatto una proposta del DNA dei cani che hanno fatto in altre realtà simile ad erba come malnate e mi è stata bocciata per motivazioni che non posso necessariamente condividere. Ecco, parlavamo prima di aree dismerse, vorrei ricordare che non è che sono prime di vita, lì c'è una vita che molti non conoscono, ci sono altre specie animali che l'hanno accettata come loro habitat, ci sono gatti, ricci, è uno spettacolo di notte, pipistrelli, rondini, rondoni, balestrucci. Ecco, chiederò se sarò io a capo di questa dimensione comunale che sta per venire, di rispetto anche di queste specie animali che non dovranno essere slociate con violenza ma trovare loro un'altra destinazione che non li condanni a una vita da prigioniere. Ecco, una proposta che ho fatto 5 anni fa, molte le possono ripresentare. Ecco, ma una, per affiancare la polizia locale che grazie a una convenzione che io non ho condiviso con Pusiano e Upiglio, che ci porta in cassa qualche decimiaio di euro va bene, ma non ci dà poi quella presenza costante e così che la gente vorrebbe dalla polizia locale. Ecco, vorrei però che a supporto e complementari alla loro azione vengono mandati fuori in missione anche funzionali dei lavori pubblici ed altri per verificare sul territorio cosa c'è che non va, perché spesso si fanno dei progetti che non tengono conto di cose che possono sembrare banali, ma uno o due gradini mesi dove non dovrebbe veramente la difficoltà, molte persone in difficoltà a muoversi. Quindi fuori a vedere com'è questa città e andare a progetti che siano reali, cioè dopo aver percepito qual è la situazione che vive, quella situazione che stanno invece per affrontare. Un'operazione che a molti era piaciuta, quella di ridare erba degli stradini. Ecco, è ora di tornare anche dei lavoratori manuali attenti al territorio. Il territorio prima veramente aveva tante di quelle persone che lo controllavano senza avere il compito di controllare, era un controllo reale insomma. Lo è stato, non lo è più e ci viene a mancare. Lo è stato così anche in altre situazioni come l'eliminazione della stazione, quella che era prima, lo è così nell'ASME. Ecco, purtroppo è una cosa sulla quale non tutti si sono soffermati, che l'Agenza Servizi Municipali Erbesi di fatto non esiste più, è in liquidazione anche la sua componente SRL, perché questa aggiunta e le precedenti hanno attivato una pratica continua e interrotta di privatizzazione. Loro la chiamano esternalizzazione per rendere le operazioni più simpatiche e meno comprese, ma di fatto si è regalato ai privati molti servizi che invece prima erano comunque attivi e servivano anche i bilanci della Comune. Oltretutto erano più attenti al territorio perché gestiti da persone che ci vivono. Sono più di vent'anni che in città ad Erba si parla dell'eliminazione del passaggio a livello di corso 25 aprile. In questi anni si è ipotizzato un sottopasso, un sovrappasso ed ora un ponte sull'Ambro. Qual è la posizione di Doriano Torchio su questo argomento che è sempre di stretta attualità? Ne abbiamo parlato anche di sera in Commissione di Territorio e Sicurezza e anche la settimana precedente. Il progetto però che ci manda la Regione Lombardia attraverso Trenord è una sola soluzione che loro accettano, propongo quella del sovrappasso. Io mi sono preso tempo onestamente per ripensare un attimo una cosa che non è una scelta semplice, sono 13 milioni e 2 che verranno impegnati, di danaro che è anche pubblico, quindi gestirebbe qualche riflessione in più. E' dispiaciuto che sia rimasto nel cassetto fino agli ultimi giorni, sapendo un po' di campagna elettorale, è salta sempre fuori milioni e milioni, mentre sarebbe necessario, come hanno chiesto le altre minoranze, e io anche se sono stato a sentire molto una proposta che condivido, cioè di rinviare alla prossima amministrazione comunale è la scelta, perché se veramente l'opzione che vuole le ferrovie nord è eliminare tutti i passaggi e livelli, tutte le pericolosità, la mancanza di accelerazione, io però sono convinto che fino a quando a Milano, ma non sarà mai, verso l'anno non ci sarà un secondo binario, i tempi con cui andremo a Milano rimarranno sempre di stessa. Però è un problema serio, non possiamo dire che non ci interessa, però rispetto avrebbe avuto bisogno di una riflessione più profonda davanti a un progetto che ci viene proposto. Non sarà velocemente quella l'esecuzione pratica, ma la scelta che ha preso di una domandia e il trenore è quella di creare un sovrappasso, con un impatto ambientale non indifferente, viene a vedere allora se tra vantaggi per la collettività e svantaggi è quello il percorso da perseguire. Io veramente sono ancora preso da ieri sera, ho votato, mi sono astenuto perché ho sentito le convinzioni dei favorevoli al sovrappasso e dei favorevoli sottopasso. Staremo a vedere. Non vuol dire che non ho una risposta, la devo meditare di più perché non vorrei essere comunque frainteso. Io comunque avevo proposto, mi concede ancora 20 secondi, in attesa che ciò avvenisse già due anni fa, ho fatto una proposta che era quella di mettere punti luminosi con la segnalazione in centro a erba, a nord di via Galilei all'incrocio dell'Erba Milano e Comolecco, di mettere i pannelli, quelli che vengono chiamati in inglese display, che segnalano la presenza di un passaggio di livello abbassato e le vie alternative per quanti sono sono erbesi affinché non ci si formi delle code di macchine, molte delle quali comunque col motore acceso creando veramente dei problemi di inquinamento. Rimaneva il problema dei passaggi dei pedoni, ma avevo visto l'altro giorno che sono andato a fare la spesa, dopo pochi secondi che la situazione terminano le bare sono state alzate, con una maggiore attenzione da parte delle ferrovie a nord, anche loro vogliono, hanno trovato il sistema di privarsi di tutte le funglie che citavo prima, quindi ripeto, è venuto a mancare il capostazione, è venuto a mancare la biglietteria, sono venuti a mancare le loro presenti in abitazioni sopra la stessa che permettono anche di controllare quella situazione che è la situazione che molti dicono che è al limite, non so se sia vero, però ripeto, è da vedere, perché 13 ogni due sono un bel impegno, certo, io sono sicuro, come altri sono processi, c'era che comunque se le prenoti a intenzione di eliminare il passaggio di libero non ci legherà anche tra qualche mese e questa è la proposta che hanno fatto le altre minoranze, mi sento di accettare. Poi sovrappasso, sottopasso, dobbiamo più di tutto dialogare con i cittadini e capire cosa capiscono del progetto e cosa intendono approvare o negare, quindi dobbiamo essere in questo veramente i loro rappresentanti e ve li stiamo a sentire. Da qui ai primi di maggio saranno giorni impegnativi, giorni che porteranno alla composizione della sua lista, lista che avrà sicuramente una variazione per quanto riguarda il logo. Da qui a qui, ma semplicemente perché quando le 4 di notte durante lo spoglio ho assistito all'assignazione di voti in bianco, poi ho scoperto che sul tratto oscuro non si vedono le croccezze perché in buona fede la Presidente la stava classificando come bianca, quindi è una necessità diciamo cromatica. Visto che noi non siamo una lista chiusa, se qualcuno vuole farsi avanti, avere altre proposte e proporsi come candidato è ancora una lista aperta, è necessita, è ha bisogno ma anche vuole dialogare con la città, per cui cittadini e cittadini fatevi avanti. Ringraziamo Doriano Torchio, candidato sindaco ad Erba per la lista Democrazia partecipata.